un nuovo piccolo angolo di paradiso del casentino scoperto per caso per ovviare alla confusione incredibile assurda che c'è le vasche sull'arno accanto alla rana stia certo qui non è il massimo per fare il bagno perché l'acqua dell'arno decisamente bassa però per rinfrescarsi e passare qualche istante belli tranquilli rilassati non è veramente male siamo proprio prima dell'inizio di prato vecchio all'inizio del percorso ciclopedonale che costeggia il fiume grazie 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 grazie